Rieccoci ritrovati a un nuovo video, oggi parliamo ancora di Elementor e parliamo nello specifico di come si crea una home page di un sito web Nelle scorse due puntate, negli scorsi due episodi diciamo abbiamo visto come costruire appunto una struttura per un sito web grazie a WordPress e ad Elementor che è un componente di WordPress, quindi che si aggancia al motore di WordPress per permetterci di andare a ottimizzare ancora meglio il lavoro di sviluppo del sito web fornendoci elementi abbastanza preconfezionati che possiamo sfruttare per poi andare a creare e costruire tutte quelle che sono le componenti salienti di una pagina web Cosa vediamo nello specifico oggi? Vediamo come creare una home page, quindi la prima pagina del sito web La pagina principale è la pagina che tutti i visitatori vedranno quando cercheranno il nostro sito all'interno dei motori di ricerca come Google Perciò non dilunghiamoci troppo e passiamo fin da subito alla pratica In questo video andiamo a vedere appunto come creare una home page del sito web Ovviamente dopo aver effettuato l'installazione di Elementor e quindi aver iniziato lo sviluppo del sito comunque già una home page ce la ritroveremo, che è la pagina di esempio Di default appunto è questa qui in pagina Io l'ho nominata home page e l'abbiamo appunto applicata, se non avessi visto il video della scorsa volta come prima pagina, quindi abbiamo assegnato questa pagina come prima pagina perché di default non lo è, attraverso questo menu quindi, dove è? Impostazioni, lettura, ok A posto di gli ultimi articoli che dovrebbe essere impostato di default da WordPress abbiamo detto una pagina statica e poi abbiamo selezionato home page dall'elenco appunto delle pagine disponibili dopodiché salviamo Una volta fatto ciò, quando apriremo appunto la prima pagina del nostro sito vedremo appunto questa pagina qua pagina home come prima pagina così che almeno sappiamo quale pagina è bene modificare Ora cosa facciamo? Andiamo in pagina, andiamo in un page e facciamo modifica con Elementor come ormai appunto abbiamo capito In questa lezione andiamo praticamente nel vivo di quello che Elementor ci permette di fare Allora, io potrei tenere aperte entrambe le pagine ma in realtà basta che vado su WordPress in modifica con Elementor e vedo già l'anteprima di quello che è il risultato finale Allora, di base abbiamo detto che abbiamo questa pagina di esempio Come funziona Elementor? Giusto perché entriamo un attimino nel vivo Funziona che qui a sinistra abbiamo il risultato finale qui a destra abbiamo il risultato finale scusami, a sinistra abbiamo l'elenco degli strumenti disponibili Come abbiamo visto un po' anche in introduzione Elementor ci permette appunto di andare a utilizzare diversi elementi che compongono poi le pagine, quindi il sito e di andarle a fare che cosa? Andarle praticamente a selezionare e trascinare all'interno dello spazio che preferiamo Ok? Quindi io già prendendo un campo testo e mettendolo qui ho la possibilità di appunto andare a inserire un titolo a piacimento Ok, ovviamente una volta inserito posso anche andare in stile quindi nelle varie voci e modificare quindi modificare il colore modificare, vediamo se lo riprendo qua la tipografia modificare un po' tutto quello che ci pare e ci piace Ora, per non partire da questa struttura e renderle cose un pochino più difficili ma anche più interessanti almeno le capiamo bene e io ti suggerisco di vedi che se passi su ognuno di questi blocchi puoi modificarlo Ok? Oppure possiamo anche andare a eliminarlo quindi tramite questa X io adesso andrò a eliminare tutto volendo si potevano eliminare anche le singole sezioni perché ho eliminato tutto? Perché almeno con questa pagina vediamo un po' tutta la struttura come funziona quindi Elementor e come è bene lavorare con questo strumento che ci permetterà di fare un sacco di cose Allora, prima di andare a inserire gli elementi è sempre buona cosa creare dei contenitori per suddividere la nostra pagina perlomeno in sezioni altrimenti rischieremo di avere un gran casino alla lunga Perciò cosa facciamo? Andiamo nella sezione Layout inseriamo il contenitore cliccandoci sopra o trascinandolo nella pagina in questo caso si andrà ad aprire questa nuova sezione dove già possiamo andare a definire una larghezza di pagina ok? Magari adesso gli dico 1200 che è un po' una misura di default l'altezza minima ma che in realtà non la metto perché farò sì che l'altezza sia gestita dagli elementi che sono al suo interno quindi non diamogliela altre voci per il momento non ci interessano quindi possiamo tornare qui in questa icona e andare appunto all'elenco di tutti i nostri elementi altra cosa che si può fare è questa andiamo in questa sezione clicchiamo sul più vediamo se qua qua sopra scusami sul più no papapapapapapapapapa ah ok qua allora altra cosa che si può fare è andare in questa parte dove abbiamo praticamente la possibilità di andare a dividere ancora ulteriormente le nostre sezioni quindi cliccando sul più possiamo scegliere la struttura ok? e dividere ad esempio non so creare la pagina divisa in due clicchiamo qua e in automatico vediamo appunto che ci viene già creata una suddivisione quindi se non volessimo andare appunto a creare un contenitore e poi dividerlo non basterà far altro che andare appunto qua, fare più e selezionare la tipologia di struttura che ci interessa ok, ora cosa facciamo? Abbiamo creato quindi due divisioni una al 100% e una diviso al 50% e al 50% anche qui se io clicco qua posso definire la larghezza e posso portarlo anche questo a 1200% così da andare ad avere praticamente la stessa struttura, la stessa grandezza di quello sopra lui già in automatico mi dà questa spaziatura, ci piace ora andiamo qui e cosa facciamo? Partiamo dall'intestazione quindi aggiungiamo l'intestazione, andiamo qui e clicchiamo, non so, andiamo a inserire il titolo vabbè è home page e mettiamo un sottotitolo della pagina adesso io vabbè farò, non avrà molto senso quello che andrò a fare però è giusto per farti capire quelle che sono le potenzialità di questo strumento magari appunto lo rimpicciolisco un pochino facciamo 1000 e 0 24 vediamo, no vabbè facciamo 1000 e 2 andava bene devo tenerlo un pochino più piccolo ma va bene 1000 e 2 perfetto, 1000 e 2 ok poi volevo allinearlo a questo, se ce la faccio, quanto è grande questo? maledetto è che non c'ho voglia di uscire, quindi facciamo così andiamo ancora qua, ok facciamo 1100 no, 1150 oh la madonna, 1140 va bene così, perfetto ora, sottotitolo della pagina l'abbiamo messo volendo potremmo scegliere anche il carattere tutto quello che vogliamo non perdiamo tempo, vado avanti spedito cosa faccio? allora qua vado a mettere un'introduzione quindi mettiamo editor del testo anche qui vado sulla mia sezione rimpicciolisco abbiamo detto 1140 50 perché c'è il padding perfetto lo sfrutterò per mettere appunto del testo che può essere un testo di introduzione magari qua metto un altro sottotitolo e appunto tramite questa parte di sinistra posso editarlo posso farlo magari in grassetto posso mettere appunto anche qua un sottotitolo e mentre alla destra andiamo a mettere che ne so, un'immagine to, immagine anche qui io posso scegliere lo stile l'altezza dell'immagine insomma posso praticamente decidere qualunque cosa ovviamente poi cliccando qui sulla matitina potrò andare anche a selezionare vediamo se me lo fa modificare allora forse in contenuto esatto scegli l'immagine lui quindi scegliere l'immagine cosa fa? va a aprire la libreria di wordpress quindi mi dà la possibilità di caricare le immagini e di scegliere quella che più ci pare piace io ora vado in non lo so pixabay e scelgo un'immagine di questa qua bellissima no è una traccia musicale bravo andiamo a mettere dai viaggi travel perfetto prendiamo l'immagine a caso prendiamo mamma mia che belle questa qua faccio il download pixabay se non la conoscessi è una piattaforma per scaricare immagini gratis quindi senza senza avere diritti sull'immagine quindi si possono utilizzare poi qualcuno è anche a pagamento poi guarda sempre un pochino la tipologia di immagine qui abbiamo anche praticamente le varie licenze quindi dai un'occhiata per capire cosa puoi usare cosa invece è bene acquistare su licenza comunque carichiamo l'immagine selezioniamo e eccola qua la nostra immagine ovviamente in questa sezione possiamo anche appunto modificarla ingrandirla e insomma possiamo adattarla un pochino a piacimento a quello che vogliamo fare poi fatta questa sezione vogliamo cioè ci piace questa sezione vogliamo duplicarla senza perdere tempo possiamo comunque andare qua ok in questa diciamo label che si apre che rappresenta questa nostra seconda sezione e facciamo tasto destro e gli possiamo direttamente dire duplica lui duplicandola cosa fa? va a duplicare esattamente questa questa mia sezione e quindi a questo punto non ci basterà far altro che fare uno switch dei due elementi quindi prendere ad esempio l'immagine la trascino qui sotto e poi questo lo sposto a destra ecco qua così facendo praticamente ho creato già una struttura a scacchiera e banalmente se io aggiorno la pagina e vado poi sulla mia pagina reale dovremmo vedere appunto il risultato il risultato finale già diciamo andare a crearsi e poi cosa possiamo fare giusto perché almeno andiamo a mettere qualche altro elemento ci ho messo un'immagine mettiamo che volessimo mettere un video facciamo così cancelliamo tasto destro elimina video ok il video cosa si fa? si può andare a scegliere la sorgente ad esempio youtube vimeo possiamo anche andare a mettere un link esterno caricare noi un video ok quello che vogliamo fare io ad esempio adesso andrò su youtube prendiamo un bel video e lo andiamo a inserire dai vado a prendere un mio video rapido rapido anzi no vai make ground music tac bellissimo copiamo se non sbaglio questo url ok copia e qua andiamo a incollarlo perfetto vediamo se ce lo prende perfetto funziona ok andiamo avanti e mettiamo magari anche degli altri elementi quindi non so aggiungiamo un pulsante facciamo ad esempio che queste sezioni vanno a collegarsi con queste perciò facciamo così qua mettiamo presentazione perfetto qui magari tolgo un po' di testo faccio da farlo un pochino più corto avere un po' di spazio per far che cosa per mettere un pulsante lo mettiamo qui e mettiamo posso fare clic qui non so scopri di più ok questo scopri di più voglio che vada alla sezione presentazione quindi cosa facciamo andiamo il link opzioni link no vediamo se me la trovo tag dinamici no pop 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 ci toccherà metterlo a mano va bene andiamo in presentazione copiamo l'url copia e qui andiamo a incollare il nostro url perfetto stile vado a prendere un colore no tipo vediamo se me lo fa prendere ok colore contagocce volevo prendere non me lo prende quel violetto qua andiamo io la mano ok quindi andiamo qui facciamo un violetto tipo questo perfetto ok così facendo se aggiorno la pagina e vado in presentazione anzi vado in home page dovremo vedere anche questo bottoncino qui e cliccando lo eccolo qua ci manda in presentazione perfetto facciamo la stessa cosa con portfolio anche qui no ecco se si sbagliasse basta fare control x per tornare indietro o command x da mac per tornare indietro oppure 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 ad esempio se io sbaglio metto un non so tipo in questo caso che scombustolo gli elementi dico oh mio dio vediamo eh se riesco metterlo qua dico cavolo cosa ho fatto allora vado qui dovevi andare qui in cronologia e lui in automatico mi dice aspetta hai fatto qualcosa l'hai spostato niente torna indietro quindi vado queste qua sono praticamente tutti i passaggi che io ho fatto e posso praticamente andare indietro o avanti vieni qua nel tempo praticamente lui salva man mano che faccio le modifiche per permettermi poi di avere queste copie di backup ma torniamo a noi mi piace questo elemento lo duplico e lo trascino poi qua sotto l'unica cosa che faccio in questo caso è cambiare l'url che non deve più andare a presentazione ma deve andare a portfoglio quindi vado qui e a posto di questo url incollo portfoglio perfetto ok vediamo se possiamo aggiungere ancora qualcosa ma io direi di fermarci qua per quanto riguarda la home page poi andremo avanti andrò pagina contati abbastanza in fretta abbastanza semplice poi andremo avanti magari con le prossime puntate a vedere anche le pagine interne e proviamo appunto un po' anche tutti gli altri elementi purtroppo nella sezione gratuita che stiamo utilizzando alcuni di questi elementi sono bloccati ad esempio qui in fondo mi sarebbe piaciuto inserire un form di contatto si può fare ok magari la prossima volta vediamo come con più con più calma però non possiamo sfruttare gli elementi di Elementor dobbiamo essere un pochino più diciamo a conoscenza di WordPress per riuscire a inserirli in maniera un pochino più diciamo più o meno elaborata quindi senza la comodità di averceli qui in parte però ecco per il momento diciamo che ce lo facciamo andare bene così poi se volesse comunque valutarlo qui in fondo abbiamo la possibilità di andare appunto alla pagina di Elementor Pro e di sbloccare le funzionalità volendo 30 giorni sono gratuiti o meglio abbiamo la possibilità di ricevere un rimborso completo quindi volendo si può anche provare attenzione però che se si provasse e si appunto inserissero elementi Pro alla fine della prova questi elementi poi non funzionerebbero più se non si rinnova più la licenza quindi valutate bene il mio consiglio è quello ovviamente di partire dalla versione gratuita come stiamo facendo adesso capire poi in base ad anche le tue conoscenze fin dove puoi spingerti ed eventualmente se ne vale la pena allora si passare anche alla versione Pro ora cosa facciamo aggiorniamo la pagina ricarichiamo la nostra home page e proviamo se tutto funziona qui abbiamo detto che andiamo a presentazione e qui ecco cambiamo il titolo lo chiamiamo portfolio perfetto così che almeno è un link rapido non ha caricato bene evidentemente perfetto scopre di più e andiamo a portfolio perfetto perfetto direi che ci siamo per questa prima pagina ok spero che vi sia piaciuto il video e appunto spero vi sia piaciuto questa introduzione a Elementor ovviamente abbiamo visto alcuni elementi abbastanza basici ma non temete che tra poco nelle prossime lezioni andiamo ancora più a fondo vedremo come creare la presentazione il portfolio crearle un pochino diciamo in maniera strutturata e poi passeremo anche alla pagina contatti inserendo anche un bel form di contatto se ti è piaciuto il video lascia un bel like per supportarmi e supportare il canale e fammi sapere cosa ne pensi nei commenti io come al solito ti ringrazio per aver guardato ciao e alla prossima